Domenica 22 ottobre alle ore 10, l'associazione 50 e più, Terziario Donna e Stella Scarpa, vi invitano al convegno Eterna Giovinezza, Mito o Realtà, che si terrà presso la sede di Confcommercio a Pesaro. Questi sono i relatori che si alterneranno durante il convegno. Vi aspettiamo domenica 22 ottobre presso la sede di Confcommercio a Pesaro. Grazie.